Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo per mezzo di Palazzo Chigi fa sapere che per imporre nuove restrizioni agli italiani prima si attenderà l'esito delle vaccinazioni e delle misure sui mezzi pubblici. Solo se l'indice RT supererà l'1,2 si vedranno delle nuove misure restrittive che potrebbero essere dal vaccino obbligatorio al vaccino obbligatorio anche per andare al lavoro. E vediamo adesso nel dettaglio che cosa comunica il governo. Intanto il numero dei casi cresce di giorno in giorno, sale il tasso di positività e aumenta negli ospedali il numero dei posti letto occupati da malati covid. Il governo è preoccupato per questa continua risalita dei contagi ma dice in questo momento esatto cioè oggi 12 dicembre stiamo in attesa anche perché lo avete capito sono giorni di spese natalizie e non vogliono fermare l'economia. Se faranno delle nuove restrizioni partiranno dal 25 in poi quando gli italiani hanno già speso, hanno già consumato e le aziende una parte ha chiuso per le festività natalizie. Il palazzo Chigi sta seguendo la curva epidemiologica. Troppo presto per un bilancio e trarre le conclusioni vogliono che gli italiani spendano spendano e facciano girare l'economia. Pertanto prima l'economia e dopo vediamo che fare anche perché il governo va fiero di quel più 6,2 dopo il meno 8 o 9 dell'anno precedente è un rimbalzo tecnico ma loro lo sbandierano come il governo dei migliori. Sono arrivati i migliori e i migliori fanno più 6,2. Dopo arriverà il governo dei peggiori o dei sufficienti e non faranno queste cifre. Verrà ricordato Mario Draghi quando c'era lui più 6,2 l'economia girava. Ma che girava? E poi il dato chiave sono le opinioni del comitato tecnico scientifico. Bene, l'RT nell'ultimo mese è sceso sotto 1,2 all'1,18. Ecco, una cosa è il tasso di positività che è al 3,8 e una cosa è l'RT. Spesso ci si confonde tra i due dati o magari i giornali li confondono. L'RT è la trasmissibilità del virus. Se è sopra l'1 vuol dire che è in espansione il contagio, se è sotto l'1 vuol dire che il contagio va regredendo. L'auspicio è che possa calare ancora dall'1,18 in giù, perché se dovesse continuare a salire scatterebbe l'allarme. Beh, se mi dici che sei all'1,18 e dopo l'1,2 allarme praticamente è lì, nel senso sembra quasi una presa in giro. Il sistema delle fasce di rischio a colori potrebbe porterebbe diverse regioni in giallo, qualcuna in arancione, forse magari qualcuna in rosso. Sono tutte previsioni, calcoli, statistico, matematici. Tra i ministri si parla di una possibile estensione dell'obbligo di Green Pass al trasporto pubblico locale, agli aerei, treni ad alta velocità. Ma il punto vero sono le chiusure. Hanno paura di chiudere di nuovo i negozi, quindi l'economia di nuovo ferma. Nessuna conferma l'ipotesi di limitare bar e ristoranti per il periodo di Natale. Restringere la libertà di spostamento. Allora, quando i giornali fiancheggiatori del governo parlano di restringere la libertà di spostamento, dicono che è? Ma che sarà? Lockdown? Cioè, state a casa, non vi faccio uscire. Però non parlano più di lockdown. Restringere la libertà di spostamento. È come quando i giornali fiancheggiatori del governo Giuseppi II, e quando il Giuseppi voleva alzare l'IVA, scrivevano il governo sta pensando a una rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto. Dice, ma non bastava dire vuole aumentare l'IVA. Eh no, è la manipolazione del consenso che passa attraverso i termini, le parole. Allora, qui il giornale fiancheggiatore del governo, che fa finta di essere imparziale, dice, beh, insomma, il governo potrebbe restringere la libertà di spostamento. Cioè, il lockdown. Ecco. Nel governo la parola d'ordine è tranquillizzare e smentire come prematuro qualsiasi genere di misura allo studio. Ecco, il governo che cosa dice? Smentire. Tanto quando lo facciamo, la facciamo improvvisamente, un po' come quando hanno cambiato l'euro con la lira, cioè la lira con l'euro. All'improvviso, di notte, e il giorno dopo c'era l'euro e chi si è visto, si è visto. È come quando fanno le patrimoniali, quando i governi prendono i soldi sul conto corrente della gente. Lo fanno di notte. Il giorno dopo tu non ce l'hai già più. Ti portano via quei 10-15 euro a persona. Fatto. Quindi qui, quello che dice il governo ai suoi, zitti tutti, non mandate in giro voci, ipotesi abici di tranquillizzare. È prematuro. Come dire, poi, quando lo dobbiamo fare, lo comunichiamo. Da oggi, da domani mattina è così, punto e basta. Mettiamo le persone davanti al fatto compiuto. Draghi sembra intenzionato ad andare avanti il più possibile senza divieti, chiusure, ma ovviamente lui vuole andare a Palazzo Chigi, vuole essere ben visto, ben voluto. Non vuole creare problemi all'interno della maggioranza, perché poi, se c'è un partito che si oppone, poi magari non lo vota per il Quirinale. Avete capito un po' la convenienza personale del Premier? Sempre c'è una convenienza, un opportunismo si chiama più correttamente. Speranza dice, sottolineiamo gli effetti molto buoni delle vaccinazioni, la spinta dei booster e i numeri molto alti delle prime dosi. Come Draghi, anche Speranza è cauto. Prima di valutare il da farsi, vuole vedere l'effetto del super certificato verde, guardate che il super certificato verde non ha nessun effetto, nessuno. A parte che in tante parti d'Italia non controllano niente, né Super Green Pass, né Green Pass basico, niente, nulla. Grandi parti d'Italia si fa quello che si vuole e questo viene da molte vostre testimonianze che spesso scrivono anche come fanno. Dice, io faccio così, passo di su, passo di giù, ma tanto non c'è nessun controllo. Ecco, intanto dicono, beh, adesso visto che sui mezzi pubblici ci vuole il Green Pass basico, la curva si può raffreddare e scendere sotto l'1,10. Vabbè, vogliono vedere il bicchiere mezzo pieno, ma il bicchiere si sta svuotando. Arrivederci a tutti e grazie.